Per la prima volta in stagione Rimini va sotto, ma la squadra di Righetti, seppur non brilli come in altre apparizioni, si mostra dura a morire. Soffre, rischia, fa soffrire e poi quando sembra tutto finito arriva l'incornata vincente di Venturini, colui che la settimana prima non riusciva a darsi pace in occasione del pari del Gianna Erminio. Ma il calcio anche questo dà e toglie. Dà l'assegno simbolico di vicinanza di Grazia dottor Pierluigi Di Michele, rappresentante dell'Associazione Nazionale Tumori e Hospital Neri. Dà un assegno di 2.000 euro al settore giovanile ad opera di amici del Rimini Calcio e toglie dallo schedino il segno 2 di vittoria del Teramo, che nel finale si rovina la festa da solo con l'espulsione di Proietti. Ma la gara ha un inizio in protesta. Al quinto Arlotti si vuole in area avversaria, a primo impatto l'intervento di Speranza sembrerebbe esserci, ma guardando i repressi evidenza la caduta di Arlotti che già prima che il difensore possa intervenire si lascia andare. Il Teramo risponde in maniera più convincente da un'azione con un batti di batti, la sfera giunge nel piede caldo di Ranieri che con una gran staffilata dalla distanza porta in vantaggio gli abruzzesi. Per il numero 4 si tratta del secondo centro in stagione che avviene al minuto 9. Il Rimini subito in colpo ha un'immediata reazione che porta alla firma di Arlotti, ma la mira è da dimenticare. Il Teramo si fa vedere con questo corner che porta a tentativo di Direnzo, ma provvidenziale la respinta dalla difesa biancorossa. Carl Ventissimo va vicinissimo al pareggio con Mariola che innesca Cicarevici in profondità, che è davanti a Lewandowski e segue un pallonetto preciso ma debole, con la difesa ospite libera di allontanare il pericolo. Il Rimini non si arrende, Guglielbre serve Cicarevici, tiro del Monteregrillo da fuori aria e viene respinto in tuffo da Lewandowski. Il monologo biancorosso prosegue, Ferrani che era salito in area avversaria, di gran carriera appoggia per la corrente Guglielbre, tiro del numero 11 sfiori palo alla destra di Lewandowski. Nulla da fare, porta stregata. A questo punto in mezzo alla maledizione prova a farsi vedere l'ex Spighi che si fa tutto il campo da solo. Prima di vedere concludersi la propria azione fuori di un nulla, anche in questo caso è provvidenziale una deviazione. Sulla sviluppo del tio della bandierina, Barbuti trova la deviazione vincente, ma la rete viene annullata per fuori gioco dello stesso numero 19 Teramano. Squadra a riposo solo 0-1. Ad inizio ripresa, Simoncelli, più a di lasciare il capo, prova una conclusione al giro, smorzata, in corner, dalla retroguardia ospite. Barbuti dall'altra parte prova a chiudere il match dopo una discesa, ma Scotti, seppur il tiro non sia irresistibile, riesce a respingere quella difesa che è perfezione di disimpegno. Più convincente l'azione del minuto 50, Proietti con un delizioso tacco smarca a ventola, che dalla distanza non inquadra il bersaglio. A settantesimo punizione da sinistra di Candido, Alimi appena entrato di testa, chiama Lewandowski alla presa a terra. Due minuti più tardi, non è entrato in buonaventura, involato sinale di rigore, sforna un diagonale insidioso, neutralizzato in due tempi da Lewandowski. I Rimini preme sull'acceleratore e anche lo scambio Arlotti-Volpe sembra portare al pari, ma l'ex Frosinone, sul più bello, viene chiuso in corner. Rigetti è costretto a questo punto a rinunciare a Ferrani per Crampi e gioca la carta Venturini. Il difensore si posiziona al centro della difesa, al novantesimo in Teramo, rimane in dieci uomini per l'espulsione ingenua di Proietti. Il repreci mostra la leggerezza dei centrocampisti in maglia numero 8 nei confronti di Buonaventura. Dal calcio a piazzato Cecconi incide di testa, ma Lewandowski si mostra super nella risposta, deviando la sfera in calcio d'angolo. Ma lo stesso numero uno deve arrendersi al novantatresimo, quando dalla bandierina sul secondo palo è Venturini a trovare la deviazione vincente, rendendo Vano l'ultimo disperato tentativo di salvataggio sulla linea di porta. Il difensore si riprende alla divincita meritata, ristabilendo la parità in campo. Risultato giusto, Rimini sprecone, Teramo ingenuo e ora in 14 giorni quattro sfide che saranno di piacere, che daranno una risposta a questo Rimini sul ruolo da recitare in questa stagione. Ma intanto il punto, seppur a piccoli passi, muove la classifica e attesta che il Rimini non muore mai. A partita in corso sottolineiamo il buon impatto sul match di Alimi, ma se di cambi si parla, mai cambio più azzeccato. Venturini toglie le cosiddette castagne dal fuoco, trovando il gol dell'insperato pareggio. E ora la rivincita è compiuta. Per il Teramo, Ranieri insieme a Proietti esegue una prestazione super, mentre Di Renzo corre dannatamente dandosi un grado a fare, ma purtroppo gli abruzzesi non riescono a trovare i primi urai stagione. La casella punti è caratterizzata da quattro pareggi e soprattutto da zero vittorie.